La nuova emergenza legata alla pandemia da Covid-19 si chiama variante Delta, che si è già resa responsabile dell'inversione di tendenza della curva dei contagi in Italia. La discesa dei nuovi casi, che per tre mesi ha visto un trend costante verso il basso, adesso subisce una frenata, dato che si manifesta inequivocabilmente dall'indice R con T, che in 11 regioni è tornato superiore a 1. Anche in Sicilia cominciano a moltiplicarsi i casi di contagio della nuova variante. Gli ultimi riguardano alcuni ragazzi rientrati dalla Spagna, quasi tutti con un volo Valencia-Palermo. Il commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa, assicura che i giovani sono in isolamento domiciliare con tracciamento completato al 100% fino all'ultimo contatto. Adesso il totale dei positivi alla variante sale a quota 60 tra Grigentino e Palermitano, ma il dato, dice Costa, è destinato ad aumentare perché stiamo riscontrando la mutazione Delta nella maggior parte dei sequenziamenti che effettuiamo sui passeggeri risultati infetti all'arrivo del paese iberico. Tutti i ragazzi sono attualmente in quarantena domiciliare come le altre persone che sono entrate in contatto e che adesso attendono il tampone.